Musica Sembra una cosa lontana che riguarda poco la gente comune, in realtà influirà il TTIP soprattutto sulle persone e soprattutto sul lavoro. Assolutamente sì, il governo italiano ha fatto sì che in Italia calasse un velo di silenzio sulle negoziazioni e allo stesso tempo ha lavorato per accelerare le negoziazioni stesse. Il TTIP inciderà sulle nostre vite, inciderà perché rischia di far saltare il principio di precauzione che informa la normativa europea e quindi è un rischio soprattutto per la salute alimentare, inciderà perché noi stiamo negoziando con un paese, gli Stati Uniti, che non ha sottoscritto nessuna delle dichiarazioni fondamentali dell'ILO e quindi c'è un pericolo serissimo per i diritti del lavoro e per l'occupazione. Studi come quelli di Capaldo dimostrano che molto probabilmente il TTIP non provocherà solo una perdita di posti di lavoro ma anche una perdita di qualità dei posti di lavoro. Una delle questioni che si vorrebbero inserire all'interno del trattato è di fatto la privatizzazione, cioè un accordo che preveda la mercificazione dei beni comuni e la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Per questo anche oggi siamo qui come Movimento per l'acqua proprio per ribadire questo no al trattato, un trattato che viene discusso nelle segrete stanze europee e statunitensi che non porterà sicuramente nessun tipo di vantaggio alle comunità e questo è un fatto assolutamente grave anche perché passerebbe sopra la testa dei cittadini. Quando nell'iniziativa che abbiamo svolto proprio qui di presentazione della posizione del governo italiano sugli accordi di commercio ha invitato come principali speaker italiani due persone, Squinzi e Marcegaglia. Che cosa vi ricordano Squinzi e Marcegaglia? A me è una cosa molto chiara che questo trattato avvantaggerà alcuni, non è vero che fa bene o che fa male, fa bene ad alcuni. Fa bene all'economia dei paesi del nord Europa e non a quelli del sud Europa, fa bene alla confindustria e non alle lavoratrici e ai lavoratori. La battaglia contro il TTIP è una battaglia per la democrazia in primo luogo, ma è anche una battaglia per il lavoro. Un'ultima cosa fatemela dire da donna del sud qui in una città del nord, ovviamente scherzo come Roma, il TTIP significa mettere a rischio la nostra produzione agroalimentare. Parliamo di filiere, di produzione, di controlli, di tracciabilità, di etichettatura, tutto viene messo a rischio per avvantaggiare le multinazionali. Allora io davvero vi ringrazio, vi ringrazio dal profondo del cuore per essere qui oggi, perché noi in Parlamento ce la stiamo mettendo tutta, noi dell'altra Europa, loro del 5 Stelle ce la stiamo mettendo tutta, ma se questa non è una battaglia in primo luogo di cittadinanza attiva in Italia e in tutta Europa, non ce la faremo, per cui grazie a tutte e tutti voi per essere qui in piazza oggi.